Musica Incidenti stradali, Rocca d'Aspide, seconda vittima dell'incidente di martedì scorso A sala consiglina auto si capovolge, autista illeso PD, Vallo di Diano, Pica, giovani importanti, nessun contrasto Capaccio Pestum, domani incontro con istituzioni e cittadini per discutere dell'appaventata riforma delle BCC Incontro organizzato dalla BCC di Acquara Sassano Polla, i comuni denunciano Enel e Aruba Calcio, il Volce giocherà con la Juniors per protesta Sospesa la decisione sul Real Postiglione Aurettese Buongiorno e bentrovati con questo nuovo appuntamento con informazione di Euronews Apriamo con la cronaca Aumenta il bilancio delle vittime dell'incidente stradale verificatosi lo scorso martedì a Rocca d'Aspide Che aveva visto coinvolte un'auto della protezione civile con a bordo tre donne e un furgone Dopo Antonia Quaglia morta poco dopo l'impatto Ieri all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno è deceduta anche Rosa Gorresi Vediamo Seconda vittima del tragico incidente stradale verificatosi lo scorso martedì a Rocca d'Aspide Dopo il decesso dell'84enne Antonia Quaglia Estratta dall'auto già in condizioni gravissime E morta poco dopo nonostante i tentativi dei soccorsi di salvarle la vita Si apprende ora del decesso anche di un'altra signora a bordo dell'auto della protezione civile Coinvolta nell'impatto contro un furgone Volkswagen Intorno alle 17 di ieri Rosa Gorresi è spirata all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno Dove era stata trasportata a seguito delle gravità delle ferite riportate nell'impatto La donna che martedì mattina si stava recando insieme alle sue amiche al centro di Alisi Era stata sottoposta ad un doppio intervento chirurgico durato circa sei ore Una delicatissima operazione alla milza ed un'altra al cervello Successivamente era stata ricoverata presso il reparto di rianimazione in stato comatoso Le sue condizioni sono comunque apparse subito disperate e ieri la notizia del decesso Si aggrava quindi il bilancio dell'incidente stradale che ha visto coinvolte le tre amiche Accomunate dalla necessità della dialisi Intanto Tomasina Quaglia, sorella di Antonia di 77 anni Al momento resta ricoverata presso l'ospedale di Polla nel reparto di ortopedia In attesa di essere sottoposta ad un intervento chirurgico al femore La donna nell'incidente ha infatti riportato diverse fratture In particolare al polso e al femore Al momento la donna non è stata sottoposta ad intervento chirurgico I sanitari infatti sono impegnati a stabilizzare prima le sue condizioni Per poter intervenire chirurgicamente sulla frattura Solo lievi ferite invece per gli autisti dell'auto della protezione civile del furgone Coinvolti nell'impatto che è risultato fatale per Antonia Quaglia e Rosa Gorresi E restiamo in tema ma per fortuna questa volta non si sono verificati gravi danni alle persone Ieri sera a causa probabilmente del manto stradale reso viscito dalla pioggia Un altro incidente stradale si è verificato all'altezza del campo sportivo di Sala Consilina Sulla strada provinciale 49 che collega località Sant'Antonio a via Luigi Sturzo Un'auto si capovolge ma per fortuna è rimasto illeso l'autista Vediamo Nella tarda serata di ieri a Sala Consilina ancora un incidente stradale Per fortuna senza gravi conseguenze per le persone Rocambolesca la dinamica e solo per un caso fortuito è stata evitata la tragedia Da una prima ricostruzione dei fatti sembra che intorno alle ore 22 Un ragazzo a bordo di una Fiat Punto ha perso il controllo della propria autovettura in una curva L'incidente si è verificato sulla strada provinciale 49 che collega Sant'Antonio a via Luigi Sturzo Ed ha visto l'autovettura del giovane capovolgersi Nell'impatto sembra sia stata coinvolta anche una Fiat Panda Sul posto immediato l'intervento dei carabinieri della stazione di Sala Consilina Per i rilievi del caso e per la ricostruzione della dinamica dell'incidente I militari hanno inoltre richiesto l'intervento dei sanitari per appurare le condizioni fisiche delle persone coinvolte Ed in particolare del ragazzo alla guida della Fiat Punto capovoltasi Per fortuna per entrambe le persone non sono stati appurati particolari traumi se non tanto spavento A causare l'incidente molto probabilmente il manto stradale è reso particolarmente scivoloso a causa della pioggia Che ha quindi provocato la perdita di aderenza della Fiat Punto Andata così a sbandare e dopo un primo urto si è capovolta Ancora una volta quindi la pioggia è causa di incidenti e questa volta solo per caso fortuito si è evitato il peggio Si raccomanda in tal senso massima prudenza ancor più in caso di condizioni meteorologiche avverse Non a caso nella serata di ieri si è verificato anche un altro incidente ad Atena Lucana Anche in questa circostanza la principale causa potrebbe essere stata la pioggia ed il manto stradale reso viscido Ed è stato richiesto il rinvio al giudizio immediato per il sindaco di Rofrano Nicola Cammarano La richiesta è arrivata dal sostituto procuratore Roberto Penna sul quale su Nicola Cammarano Pende l'accusa di detenzione di materiale pedopornografico La richiesta secondo la stampa salernitane arriva per l'evidenza delle prove a carico del primo cittadino Per la procura l'ipotesi che un virus informatico avrebbe messo le foto nel pc non è plausibile perché non sono troppe le foto Da qui la richiesta del giudizio immediato in quanto ritenuta inutile l'udienza preliminare E ancora cronaca operazione dei carabinieri della compagnia di Sapri al comando del capitano Emanuele Tamorri Nelle azioni di anti abusivismo edilizio Nel corso di accertamenti da parte dei militari del comando stazione di San Giovanni a Piro Agli ordini del maresciallo aiutante Roberto Ricotta sono state denunciate 14 persone Nell'ambito di tali operazioni i militari hanno appurato che le persone coinvolte si sono rese responsabili di aver costruito senza le autorizzazioni necessarie otto manufatti per una volumetria complessiva di circa 300 metri quadri ed un valore di circa 500 mila euro E passiamo ora alla politica L'onorevole Donato Pica nel corso di un'intervista rilasciata nei nostri studi ha fatto il punto della situazione anche allo Stato del Partito Democratico nel Vallo di Diano e sui presunti contrasti con il gruppo dei giovani dei rinnovatori democratici Ascoltiamolo Alla vigilia delle primarie del Partito Democratico e in particolare a seguito dell'evento organizzato dai rinnovatori democratici sul tema i fondi europei Un'occasione mancata, una speranza per il futuro Svoltosi lo scorso 21 febbraio a Teggiano aveva sorpreso la scelta degli organizzatori di non apporre il simbolo del partito sulla logandina dell'evento e soprattutto l'assenza dal tavolo dei relatori dell'onorevole Donato Pica, consigliere regionale del Partito Democratico Una scelta che molti hanno visto come un segno di rottura rispetto all'attuale classe dirigente del partito e un segno di frizione nel PD del Vallo di Diano L'onorevole Pica, che in molti davano come infuriato per questo mancato invito ai microfoni di Uno TV ha chiarito il suo punto di vista e ha negato la frattura con i giovani militanti del partito ma anzi ha precisato Sono molto aperto dal punto di vista intellettuale, culturale anzi guardo con favore e con attenzione l'ingresso in politica da parte dei giovani se ci sono dei giovani che vogliono interessarsi di politiche che vogliono cimentarsi nelle competizioni elettorali, politiche e amministrative che siano Questo va incoraggiato proprio da parte nostra che siamo la cosiddetta classe dirigente Fortunatamente da un po' di tempo nel Vallo di Diano anche attraverso la nomina opportuna di un coordinatore di area che è l'amico avvocato Domenico Cartolano al nostro interno, dicevo, per fortuna si sta discutendo quindi c'è la possibilità di confrontare le posizioni anche espresse da generazioni diverse e quindi è sicuramente opportuno dare questo spazio per un cambiamento per una innovazione nei modi e nei tempi di fare politica quindi da questo punto di vista non ci sono problematiche particolari Anzi, le regionali possono essere un'occasione ulteriore di presenza e di partecipazione perché ovviamente bisogna preparare le scadenze future In queste scadenze future sicuramente avranno spazio e possibilità di esprimere la propria azione tanti giovani e tanti militanti del Partito Democratico E sembra ormai certa la data delle prossime elezioni regionali che sembra fissata al 31 maggio nel cosiddetto Election Day nel quale saranno rinnovati oltre ai consigli regionali anche oltre mille comuni in tutta Italia La decisione è stata presa ieri su proposta del Ministro degli Interni Angelino Alfano oltre al Consiglio regionale della Campania si voterà anche in altre sei regioni italiane nel Vallo di Diano saranno rinnovati i consigli comunali di Sassano e Pertosa E passiamo ad una notizia di Sanità riportata da Anza Campania Il Presidente della Regione Campania, Stefano Caldoro commissario ad acta per il risanamento del servizio sanitario regionale ha emanato due decreti con cui autorizza le aziende sanitarie a procedere all'assunzione di 1118 unità tra queste anche l'azienda sanitaria dell'ASL di Salerno mantenuti gli impegni assunti spiega Caldoro dopo il blocco del 2009 si volta pagina siamo usciti dal piano di rientro ridotto agli sprechi e messo in ordine i conti avviata un'imponente organizzazione del sistema sanitario Cambiamo argomento la riforma delle BCC resta in primo piano domani presso l'hotel Harrison di Capaccio Pestum si terrà un incontro promosso dalla BCC di Acquara per discutere degli effetti di una eventuale riforma delle banche di credito cooperativo che non potrebbero più essere definite banche del territorio all'incontro prenderanno parte anche i rappresentanti istituzionali e politici del territorio e sarà presente anche una delegazione della Banca Montepruno con il direttore Michele Albanese vediamo la riforma delle BCC resta al centro del dibattito con l'iniziativa del governo sul suggerimento della Banca d'Italia le banche di credito cooperativo potrebbero perdere la caratteristica di banche del territorio una battaglia che coinvolge tutta Italia con i piccoli e medi imprenditori e le famiglie che sino ad ora hanno tratto ossigeno con la crisi economica grazie proprio alla caratteristica delle BCC che operano esclusivamente sui territori di competenza e che reinvestono sulla stessa area l'annunciata riforma aveva già smosso i vertici di Federcasse con un primo incontro in provincia di Brescia per avviare azioni di contrasto in tal senso nel corso dell'incontro all'Eno era intervenuto anche il direttore della Banca Montepruno di Roscigno e Laurino Michele Albanese per relazionare sugli effetti sicuramente non positivi per famiglie e imprese operanti in territori marginali lo stesso direttore Albanese insieme al direttore della BCC di Acquara Antonio Marino avevano presentato una relazione congiunta degli effetti derivanti dalla riforma così come concepita dal governo di concerto con la Banca d'Italia senza però acquisire il parere delle banche di credito cooperativo per mantenere alta l'attenzione sulla tematica domani mattina a Capaccio Pestum presso l'hotel Ariston la BCC di Acquara ha indetto un incontro aperto a tutti per sensibilizzare l'opinione pubblica sugli effetti derivanti da una tale ipotesi di riforma all'incontro interverrà anche la Banca Montepruno con il direttore generale Michele Albanese ed una delegazione dell'Istituto di Credito saranno esposte tutta una serie di riflessioni con analisi approfondite in particolare su cosa cambierebbe nel modo di fare banca delle BCC qualora il governo decida davvero di proseguire come sembra sul percorso della riforma all'incontro inoltre sono stati chiamati a partecipare anche parlamentari, sindaci, amministratori delle BCC docenti universitari e sindacalisti al fine di investire anche e soprattutto i rappresentanti istituzionali della problematica e chiedere un intervento deciso per bloccare l'iniziativa e occupiamoci ora di istruzione perché il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge per la riforma del sistema scolastico le principali novità che dovrebbe inserire questa nuova legge le vediamo nel prossimo servizio Al termine del Consiglio dei Ministri di ieri è stato approvato il disegno di legge sulla riforma della scuola una serie di interventi proposti dal governo per migliorare il sistema scolastico che qualora superasse l'iter parlamentare potrebbe e porterebbe ad i seguenti cambiamenti nel DDL è previsto che le scuole indicano ogni anno il loro fabbisogno in termini di docenti e strumenti per l'attuazione dei piani dell'offerta formativa che avranno cadenza triennale inoltre il Preside sceglierà gli insegnanti li individuerà all'interno dell'elenco degli albi territoriali in cui confluiranno i docenti assunti nel primo anno attraverso il piano straordinario di assunzioni e poi tramite concorsi nel disegno di legge si dà il via libera ad un piano straordinario di assunzioni per il 2015-2016 per coprire le catte delle vacanti e creare l'organico dell'autonomia oltre 100.000 insegnanti saranno assunti a settembre 2015 dopo si torna ad assumere solo per concorso sul piano didattico il DDL prevede il potenziamento delle competenze linguistiche l'inglese per tutti e discipline come arte, musica, diritto, economia e discipline motorie più spazio allo sviluppo di competenze digitale ma anche all'educazione ai corretti stili di vita infine alle superiori curriculum flessibili con scuole che attiveranno materie opzionali per rispondere alle esigenze degli studenti i presidi hanno il potere di derogare alle regole attuali utilizzando l'organico in modo flessibile potranno così evitare la formazione di classi troppo numerose inoltre per i docenti è prevista una card dal valore di 500 euro da utilizzare per l'aggiornamento professionale infine viene istituito il bonus annuale delle eccellenze destinato ai docenti ogni anno il dirigente scolastico sentito il consiglio di istituto assegnerà il bonus al 5% dei suoi insegnanti per premiare chi si impegna di più infine è previsto un bando per la costruzione di scuole altamente innovative sotto tutti i punti di vista infine il disegno di legge assegna la delega al governo a legiferare in materia di semplificazione del testo unico della scuola valutazione degli insegnanti riforma dell'abilitazione all'insegnamento del diritto allo studio del sostegno e degli organi collegiali e la creazione di un sistema integrato di educazione e di istruzione nell'immaginario generale con questa riforma la scuola avrà un organico potenziato risponderà alle nuove esigenze didattiche organizzative e progettuali potenzierà l'offerta formativa contrasterà la dispersione scolastica renderà la scuola più inclusiva eliminando le supplenze più dannose garantendo così la continuità della didattica ad Auletta un cortocircuito nella cabina elettrica di via Trecroci ha spento l'illuminazione pubblica nel centro storico del paese e per tutto il corso principale di via Roma una situazione assurda che sarebbe stata generata da un sovraccarico di energia l'assenza di illuminazione provocano pochi disagi a chi vive nel centro storico e che invece vuole fare una passeggiata in via Roma di notte non fa certo la miglior scelta perché se si fa eccezione delle insegne di alcuni locali commerciali poi è buio totale secondo alcune fonti vicine all'amministrazione comunale il ritardo del ripristino del guasto è determinato da pochi fondi a disposizione e si sta cercando di reperirli e ora breve pausa pubblicitaria riprenderemo tra pochissimo con il resto delle nostre notizie ben tornati alla seconda parte del nostro Tg l'oscuramento del sito del comune di Polla del sito internet del comune di Polla lo scorso 10 marzo ha portato il sindaco Giuliano a sporgere denuncia contro la società Aruba contro l'Enel invece si scaglia l'amministrazione comunale di Sassano vediamo i comuni di Polla e Sassano hanno intrapreso azioni legali nei confronti delle società Aruba e Dene la Polla dopo che mercoledì scorso per 24 ore il sito istituzionale si è trasformato in un portale che rimanda ad annunce chat a carattere pornografico il sindaco di Polla Rocco Giuliano ha presentato denuncia alla stazione locale dei Carabinieri in data 11 marzo avverso i responsabili per danni lesivi alla comunità pollese e verso la società Aruba con sede in Arezzo al fine di accertare eventuali responsabilità per interruzioni di pubblico servizio infatti si legge nella nota del comune detta società alle ore 24 del giorno 10 aveva disattivato il sito istituzionale contestando il mancato pagamento del canone annuale in realtà dovuto a disguidi interni degli uffici Aruba ai quali era stata richiesta la rettifica delle fatture a seguito dell'introduzione degli obblighi di cui al cosiddetto split payment cerito il disguido è stato prontamente riattivato il sito di natura diversa la denuncia che il comune di Sassano ha fatto nei confronti dell'Enel il comune contesta l'interruzione della fornitura di energia elettrica per l'illuminazione della casa dell'acqua alla base dell'interruzione della fornitura ci sarebbe la morosità del comune nei confronti dell'azienda che tuttavia recita la delibera come risulta dalla documentazione dalle fatture erano state regolarmente pagate dopo una prima diffida nonostante siano stati effettuati i pagamenti l'Enel non ha ancora dopo quattro mesi riattivato la fornitura elettrica poiché l'Enel ha provocato e provoca un danno all'intera comunità di Sassano oltre che un grave danno all'immagine del comune che deve essere risarcito l'amministrazione comunale ravvisando la necessità di far valere le proprie ragioni ha dato incarico legale per azioni di risarcimento danni nei confronti della società per due motivi diversi Polla e Sassano dunque sfidano due grossi colossi nazionali vediamo chi la spunterà se Davide avrà la meglio su Golia e restiamo a Sassano dove saranno avviati nei prossimi giorni i lavori di rifacimento del biale principale del cimitero comunale lavori particolarmente attesi dalla cittadinanza e impegno mantenuto da parte dell'amministrazione comunale inoltre si coglie l'occasione per comunicare che per disposizione del sindaco il cimitero resterà aperto giovedì 19 marzo giorno della festa del papà per consentire a chi lo vorrà di visitare i propri cari tale provvedimento è stato disposto in quanto il giovedì è il giorno di chiusura della casa cimiteriale di Sassano andiamo a Teggiano dove presso l'istituto Pomponio Leto arriva il progetto nazionale matematica e realtà domani lezioni speciali con la festa Pigreco Day ma vediamo di cosa si tratta una giornata speciale per gli studenti dell'istituto Pomponio Leto di Teggiano impegnati nei percorsi formativi scientifici al fine di facilitare e rendere anche più divertente l'apprendimento delle materie scientifiche è stata ideata una giornata di festa sul tema denominata Pigreco Day la giornata di studio viene proposta in collaborazione con il più ampio progetto di interesse nazionale in matematica in realtà finalizzato prevalentemente a simulare una profonda innovazione didattica nella matematica il progetto coinvolge non soltanto gli studenti chiamati a confrontarsi con un modo nuovo di apprendere la matematica ma anche i docenti dai laboratori di ricerca emerge forte la necessità di rinnovare l'insegnamento e le metodologie dell'apprendimento della matematica attraverso il progetto matematica in realtà il metodo sperimentale di insegnare e apprendere la materia scientifica passa direttamente dai laboratori di ricerca alle scuole domani quindi gli studenti dell'istituto Pomponio Leto avranno modo di prendere contatto con questo progetto innovativo a dare ufficialmente inizio alla manifestazione sarà il dirigente scolastico Rocco Colombo per poi dare inizio alle lezioni interattive attraverso anche l'uso delle nuove tecnologie a coordinare i lavori il professor Mimmo Cariello promotore regionale del progetto matematica in realtà saranno inoltre presenti il professor Primo Brandi e la professoressa Anna Salvadori docenti dell'Università di Perugia e coordinatori nazionali del progetto matematica in realtà che svilupperanno il tema giocandosi impara matematica in realtà con le nuove tecnologie La giornata proseguirà anche nel pomeriggio con un corso di aggiornamento aperto ai docenti degli istituti scolastici del Vallo di Diano di ogni ordine e grado E ora lo sport dopo le decisioni del giudice sportivo il Volcei che gioca nel campionato di promozione campana Girone e D ha preso una decisione forte in seguito in segno di protesta mentre sospesa l'omologazione della sfida di terza categoria tra Real Postiglione e Aulettese vediamo tutti i dettagli nel prossimo servizio Il comunicato ufficiale del giudice sportivo di ieri ha fatto saltare davvero il banco in particolare in casa Volcei la squadra di Buccino che milita nel campionato di promozione Girone e D domenica scorsa ha giocato contro le Bolitana e ha perso per un rigore generoso per chi ha visto la gara concesso alla capolista nei minuti di recupero il verdetto del campo è stato accettato ma la società non ha certo accettato le decisioni del giudice sportivo che ha commissionato una sanzione di 470 euro perché i propri sostenitori si legge nel corso della gara rivolgevano frasi ingiuriose e minacce alla terna arbitrale e ai commissari di campo e agli organi federali al rientro negli spogliatoi a fine gara colpivano un commissario di campo con accendini e inoltre lo attingevano con sputi un comunicato che ha mandato su tutte le furie il tecnico del Volcei e tutta la dirigenza buccinese proprio il tecnico Nico Fernicola ha dichiarato siamo alibiti di fronte questa situazione sia i nostri tifosi che quelli ospiti hanno tenuto un comportamento corretto e di accendini lanciati e sputi nei confronti dei commissari di campo non ce ne sono stati l'inadeguatezza della direttore di gara è testimoniata dallo stesso comunicato che riporta la squalifica fino al prossimo 7 giugno per Carmine Fernicola e non per il sottoscritto infatti dopo la concessione del secondo rigore io e non il dirigente che ha il mio stesso cognome mi sono avvicinato alla direttore di gara e ho protestato questi mi ha allontanato dal terreno di gioco ma il comunicato ufficiale riporta tra gli allenatori espulsi il nome di Carmine Fernicola un dirigente che era con me in panchina questo testimonia lo ribadisco ancora di più la totale confusione del direttore di gara il tecnico del Volcei continua c'erano 30 agenti di polizia schierati per questa gara manco fossimo in serie D e di tutta la violenza che emerge dal comunicato che riporta il referto a gara non si è avuta traccia una situazione e una decisione inaccettabile perché non si può lucrare con queste multe su una società che con tanti sacrifici porta avanti questo campionato per protesta conclude l'allenatore contro questa decisione sabato prossimo contro la Giffonese giocheremo con la formazione Juniores intanto nel campionato di terza categoria girone di provincia di Salerno il giudice sportivo territoriale in merito alla gara tra Real Postiglione e Aulettese di domenica scorsa che ha visto la squadra ospite lasciare il terreno di gioco per mancanza delle condizioni di sicurezza e di tranquillità per continuare la partita visto il comportamento violento di alcuni attesserati della squadra di casa ha disposto la necessità di ulteriori accertamenti utili per la decisione e ha sospeso l'omoglogazione della gara e ha disposto la convocazione della direttore di gara riservandosi all'esito ogni conseguenziale decisione e con lo sport termina il nostro TG vi ricordo che i notizi e approfondimenti sono disponibili sul nostro sito internet all'indirizzo www.unotvweb.it grazie per averci seguito auguro a tutti un buon proseguimento di giornata grazie per averci seguito